Buonasera e ben ritrovati nel nostro appuntamento con la voce delle istituzioni, ospite in studio il Sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramenich, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Mi siamo in intervista facile perché si parte con un argomento prioritario, che sono i lavori che sono stati effettuati al ponte di Santa Caterina. Lavori assolutamente ineludibili e che si dovevano fare anche già molto tempo fa, ma poi si sa che la burocrazia e soprattutto i finanziamenti hanno le loro strade e i loro tempi. Disagi per la viabilità, ma tutto sommato, insomma abbastanza contenuti. Certo si doveva fare con l'intervista? Assolutamente, quello è un ponte vincolato storicamente dalla sovrintendenza. È di proprietà dell'ANAS e la parte superiore è del 1921. Quindi le balaustre sono storiche e sono un patrimonio per quanto riguarda la memoria e quindi sono vincolate dalla sovrintendenza. È chiaro che il tempo passa e dopo 100 anni era necessaria una riqualificazione perché le indagini che sono state fatte da parte dei tecnici dell'ANAS, che è proprietaria del ponte, hanno dimostrato che era un ponte con danni alle balaustre e con problemi di sicurezza. Quindi dal punto di vista statico la parte superiore andava messa in sicurezza, andava riqualificata. Un progetto che è stato coordinato dall'ANAS insieme alla sovrintendenza. Ora siamo arrivati al termine dei lavori. Avremmo il ponte di Santa Caterina che è anche il simbolo del nostro gonfalone completamente rinnovato, ma con tutto ciò che accade in Italia per quanto concerne le infrastrutture direi che i disagi ci sono sicuramente stati, ma alla fine abbiamo un ponte che sarà sicuro per quanto concerne la viabilità. Poi abbiamo l'accordo con l'ANAS e con altri enti preposti di fare la passerella ciclopedonale. Il ponte è un manufatto vincolato, quindi la passerella deve essere fatta a 30 metri sul Piave verso Belluno e arriva nella zona di Via dei Zattieri, quindi il progetto sarà pronto nel 2021. E sempre con l'ANAS abbiamo delle opere in corso, tra cui il miglioramento della viabilità nella zona di entrata dell'Oltre Rai, quindi verso Cadola con una rotatoria e l'innesto a Pian di Vedoia nell'autostrada verso Longarone. L'ANAS si è impegnata ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della mobilità. Visto che la tecnologia è molto cambiata, i materiali sono molto cambiati, adesso non so se vado troppo nel tecnico, sono state rafforzate le arcate oppure il lavoro di stabilizzazione e di rafforzamento è stato fatto proprio sul piano? Dunque è stato fatto un lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza del piano superiore e in più sono state restaurate, sono state portate via tutte le balaustre, sono state portate a lavorare in un'officina a Treviso che è adeguata e specializzata a questi interventi e poi sono state rimontate sul ponte stesso. Quindi è stata un'opera anche di conservazione e di restauro. Non dico che quando la sovrintendenza vincola siamo di fronte quasi a un'opera come il Colosseo, cioè ci vuole un'attenta manutenzione e anche gli operai devono avere delle competenze che siano adeguate a quei lavori. Ripeto, il disagio c'è stato, sono nate anche tantissime leggende, però alla fine un amministratore, un sindaco e anche una società come l'ANAS deve avere come base e come obiettivo la priorità della sicurezza. Beh avete cercato di fare sia voi come amministrazione che l'ANAS il meglio per abbreviare il periodo, che poi è andato un po' più lungo. Sì, voglio dire che in un primo momento sembrava che per il 4 novembre i lavori fossero eseguiti, poi dopo si è spostata la data al 23, è arrivato il maltempo, il ritardo del restauro e della conservazione delle balaustre, ma alla fine abbiamo, ripeto, un ponte che è in sicurezza e dal punto di vista statico è riqualificato. Lei come amministrazione ha cercato di andare incontro alle difficoltà dei commercianti? Assolutamente, avremo degli incontri per quanto riguarda i commercianti, abbiamo chiesto anche un indennizzo all'ANAS per quanto riguarda i trasporti degli scuolabus e anche per i danni patiti dalle attività commerciali che sono quantificabili in circa 50 mila Euro. Senta, dopo tanti anni l'area ex Comedil, dove insisteva questa importante azienda che costruiva gru, riprende vita per adesso con dei lavori, il tempo di chiusura dei lavori? Dunque, l'area è un'area privata, non è un'area comunale o un'area pubblica, perché alcuni magari chiedono interventi che non sono di competenza del Comune. Il Comune guarda unicamente con il suo settore edilizia quelle che sono le documentazioni, le certificazioni e poi dà il via se tutto è consono e adeguato alla legge, ai lavori. Lì è stata acquisita l'area dalla ditta Cestaro, che è una ditta famosa a livello nazionale, quindi sarà trasferito il Famila, quindi 2.500 m2 di commerciale. Vicino ci sarà un'altra pertinenza, sempre della stessa entità con un'altra azienda e poi c'è una parte che sarà legata ai servizi, altri 2.500 m2. Ma nel contempo c'è il miglioramento della viabilità, quindi con una redottoria ad ingresso di Ponte nelle Alpi, con la messa a norma dei marciapiedi e con la prima piazza di Ponte nelle Alpi che sorgerà di fronte alla biblioteca civica. Quindi gli oneri di urbanizzazione di questo intervento di riqualificazione permetteranno anche di avere una nuova area, una nuova fisonomia di Ponte nelle Alpi, perché prima è un'area degradata, ora invece sarà un'area e uno spazio per i nostri concittadini, ma non solo. Andranno di pari passo anche i lavori di riammodernamento della stazione? Assolutamente, abbiamo avuto recentemente un incontro a Mestre con la direzione delle ferrovie dello Stato e investiranno circa 2 milioni di euro nella stazione di Ponte nelle Alpi-Polpet dopo l'elettrificazione e quindi la maggior fruibilità del traffico ferroviario. Dietro la zona della Comedil ci sarà lo spazio per quanto riguarda le Corriere, quindi quello che si definisce scambio gomma-rotaia e anche la riqualificazione della stazione stessa, che sarà uno degli snodi più importanti per quanto riguarda Cortina 2021 e Cortina 2026. Sperando poi anche nella prosecuzione della linea ferroviaria diventerebbe un nodo nevralgico. Esatto, e questo darà anche la possibilità di sviluppare un progetto che è un progetto che riguarda non solo il comune di Ponte nelle Alpi, ma anche il comune di Belluno, i comuni di Longarone, Sedico e Feltre, e cioè l'idea della metropolitana di superficie. Noi abbiamo fatto degli studi importanti sul traffico, a Ponte nelle Alpi transitano circa 24 mila auto al giorno, ognuno prende la propria macchina per andare al lavoro o a fare la spesa. È chiaro che se hai altri servizi, che sono servizi consoni, come il treno, le corriere o anche la metropolitana di superficie, forse riusciamo a levare traffico dalle strade e metterlo su una mobilità che si chiama mobilità sostenibile. Se da parlare di metropolitano in provincia di Belluno fa un po' sorridere, ma insomma prendiamo questo termine. Sono fermate molto veloci, come quelle delle corriere in aree popolate e che permettono di arrivare velocemente, ad esempio la zona industriale di Longarone. Longarone ha la stazione ferroviaria in centro, è difficile che un operaio che parta da Ponte nelle Alpi, in treno, arrivi in stazione di Longarone e possa in maniera veloce arrivare nella zona industriale, mentre se facciamo una fermata lì nell'area industriale di Longarone da Ponte nelle Alpi penso che sia più consono. E con il suo territorio altre fermate quali potrebbero essere? Sicuramente la zona di Pian di Vedoia, Cima, Ipra, è una zona dove tanti oggi prendono la corriera e che potrebbero andare verso la metropolitana di superficie anche con aree di scambio delle auto. La domanda però aveva anche un'altra lettura, non è il caso di cominciare a parlare proprio di area metropolitana per quanto riguarda Ponte nelle Alpi, Belluno, Sedico, perché è qui dove si svolge la maggior parte dell'attività, lo dico anche dal punto di vista commerciale. I rapporti con le amministrazioni sia di Belluno che di Sedico sono ottimi, ci sono riunioni, ci sono scambi di opinioni e anche progetti che stanno andando avanti. Dico che stiamo lavorando insieme ad esempio per riproporre nel piano regionale dei trasporti la Cadola Mas rivista, che è quel percorso viario che dall'uscita dell'autostrada riesce velocemente a portare verso Belluno e poi nella zona di Sedico e quindi verso la Guardino. E su questo devo dire che anche le amministrazioni del Lagordino sono concordi, quindi ci stiamo lavorando e su questo è un nostro impegno di inserirlo nel piano regionale dei trasporti. Però non si parla ancora di fusioni ed altre cose di questo tipo? No, ancora no. Ok, ma intendevo proprio questo di intendere ormai come area metropolitana tutt'una. Qui mi sono assegnato biblioteca e fa riferimento al fatto che voi avete fatto grossi investimenti su questo stabile, che è sempre in questa zona. Esatto, è nell'area della stazione, quindi abbiamo ricevuto dei fondi GAL, quindi sono fondi europei. Abbiamo recuperato nuovi spazi che saranno utilizzati proprio per la promozione turistica, per dare modo a chi scende dalla stazione di Ponte nelle Alpi di avere informazioni immediate. punteremo anche sulle mountain bike, sui biker e poi abbiamo riqualificato totalmente la biblioteca civica sempre per metterla in sicurezza. Così come abbiamo fatto per le scuole che oggi sono tutte sicure, abbiamo rimodernato dal punto di vista statico la biblioteca civica anche per quanto concerne l'antincendio. e devo dire perché siamo molto soddisfatti come comunità di Ponte nelle Alpi che nell'ambito del progetto Città che Leggono, quindi è un progetto a livello nazionale, Ponte nelle Alpi risulta dai dati in percentuale il comune nel Veneto in cui si legge di più e il secondo comune del Nord Italia. Questo è il merito di un lavoro, di una progettualità che va dall'assessorato alla cultura ma anche a questi organismi che certificano e anche la nostra brava bibliotecaria che è l'Antonella Michelin a cui vorrei fare un applauso. Abbiamo anche visto il lavoro fatto nelle scuole, la percentuale più alta di laureati in provincia di Belluno. Ecco perché facciamo ogni anno una bellissima festa con questi 40-50 ragazzi che si laurano ed è sempre un momento di soddisfazione. E devo dire che la maggior parte di questi non va assolutamente all'estero ma trova lavoro nella nostra provincia. Mi ha letto nel pensiero, era una battuta che volevo fare, magari anche di cattivo gusto riguardo al fatto che molti laureati generalmente corrisponde a molta gente che si allontana dalla provincia. Rimaniamo sempre in zona, c'è una problematica abbastanza forte e qualcuno avrà anche il ricordo di questo sottopasso che mette in collegamento la strada che porta a Belluno con il quartiere di Nuova Erto acqua alta un metro, un metro e mezzo a volte. Avete fatto degli interventi però mi sono sempre sembrati difficili. Dunque è un intervento, quel manufatto e quel sottopasso, dobbiamo dirlo in maniera molto chiara, negli anni 80 non è stato fatto in maniera adeguata, nel senso che lo scarico delle acque non è consono. E quindi dobbiamo intervenire post manufatto, stiamo lavorando con la provincia. Nella prossima primavera un intervento importante per quanto riguarda il nuovo drenaggio verso il Piave, la captazione delle acque. Già alcuni interventi abbiamo visto hanno migliorato sicuramente la situazione. Però il periodo delle piogge, il fatto che ci sia durante l'inverno la neve e quindi dobbiamo portarla via con i mezzi, fanno sì che il nostro territorio, come quello di tanti altri comuni, abbia problematiche per quel che concerne l'asfalto. Quindi ci sarà un intervento sia per quanto riguarda la captazione delle acque dal punto di vista idrogeologico, ma anche per gli asfalti che assolutamente vanno fatti. Novità per quanto riguarda l'attraversamento dell'energia elettrica sull'editato di Ponte nelle Alpi. Ricordo che questa la vicenda è annosa, doveva essere spostato i tralicci, poi si è parlato di interramento. Poi una lite, se non ricordo male, tra Belluno, Ponte nelle Alpi e Sovergene ha di nuovo rallentato tutto. Direi che non sono liti, ma sono diversi modi di vedere. In ogni caso per noi rimane una priorità l'interramento dei cavi dell'alta tensione a Ponte nelle Alpi. Ci deve essere una conferenza Stato-Regione, quindi prossimamente andremo in Regione a ribadire che per il Comune di Ponte nelle Alpi l'interramento degli elettrodotti è una priorità. Anche perché qualcuno è già partito, quindi si batte il ferro quando è caldo. Assolutamente. Nel ultimo consuntivo che avete fatto, è un'operazione amministrativa che si fa tutti gli anni, si stabiliscono le spese, si stabiliscono le entrate e poi naturalmente qualcosa può cambiare. Può risultare che avanzino dei soldi e voi ne sono avanzati un bel po'. Sì, diciamo che questo è frutto di un lavoro che riguarda anche bandi che abbiamo vinto e intercettato dalla Regione Veneto e dal Governo, perché la capacità dei Comuni deve essere anche quella di predisporre progetti, di inviarli in Regione e allo Stato e di ottenere i finanziamenti necessari. Ecco che ci siamo trovati una cifra a fine anno sostanziosa di 252 mila Euro di benefit, quindi di buoni, che abbiamo utilizzato e che utilizzeremo per quanto riguarda finanziamenti di progetti e interventi nelle frazioni, ad esempio gli asfalti, il decoro urbano, anche in collaborazione con l'Unione Montana, e che abbiamo destinato anche a progettualità che riguardano le nostre associazioni. Ne abbiamo 76 nel territorio di Ponte nelle Alpi e che meritano sicuramente un sostegno. Dal calcio Ponte nelle Alpi, alla pallavolo, ai comitati frazionali, a tutti i gruppi che operano anche nel sociale e nella cultura. Noi abbiamo una casa di riposo che è il nostro fiore all'occhiello, oggi è una fondazione, ha bisogno ovviamente di finanziamenti, ma anche le associazioni che all'interno fanno un grande lavoro di volontariato hanno necessità di finanziamenti. Le dico, ogni mattina partono i volontari del trasporto che vanno a prendere i nostri nonni nelle varie frazioni e li portano in casa di riposo dove c'è il centro di urno e dove possono vivere tante progettualità e stare anche insieme come aggregazione. Il sociale e la scuola per noi sono sempre una priorità. Peraltro quell'area è molto particolare perché in un abitato così popoloso avete mantenuto la barra dritta e non si costruisce lì. No, lì abbiamo fatto una scelta proprio amministrativa, in quell'area che si chiama Parco Casarossa e che è dedicato al nostro giovane che è Alessandro Maresse c'era la progettualità di costruire da parte della provincia un'area residenziale perché prima era della provincia. L'abbiamo assunta in carico e deciso unicamente di fare uno spazio verde a servizio della popolazione. Negli ultimi anni i commercianti della zona che sono particolarmente vivaci hanno preparato delle festività natalizie importanti immagino con la collaborazione del comune molto velocemente. Il nostro mondo del commercio è molto vivace, attivo. Quest'anno abbiamo preparato un calendario notevole di iniziative e manifestazioni. Ponte nelle Alpi è un'area sicuramente che ha la possibilità di ricevere tante persone, visto anche gli spazi di parcheggio e quindi ci auguriamo che sia un Natale dove ci sia tanta frequentazione dei nostri punti commerciali e dove possano anche vivere in maniera lieta tante manifestazioni e iniziative. Speriamo che i nostri borghi, i nostri paesi siano animati in queste festività natalizie che sia solamente l'inizio di una migliore stagione da un punto di vista commerciale, un po' per tutti. Grazie a Paolo Vendramini, grazie a voi per averci seguito, buona serata.